Andiamo in Russia per parlare dell'incidente aereo, escluso lo scoppio in volo, sono state ritrovate le scatole nere. Il corrispondente Sergio Paini. I detriti e i resti delle 71 vittime del volo della Saratov Airlines, che era diretto da Mosca a Orsk, negli Urali, sono spassi nel raggio di un chilometro e mischiate una spessa colta di neve nella campagna sud-est della capitale russa. I villaggi di Argunova e Stiepanovskaye costeggiano i campi dove è venuto lo schianto. Le squadre di ricerca li setacciano senza sosta, anche grazie a motoslitte, mezzi spazzaneve e droni. Cosa stanno facendo? Chiediamo a Nastia. Stanno raccogliendo i rottami dell'aereo e i frammenti dei corpi, che poi serviranno per l'esame del DNA. Ma hanno trovato anche documenti e passaporti. Nessun superstite tra le persone che erano a bordo, tutti i russi tranne uno Svizzero e una Zero. Morta anche una bambina di 5 anni. L'esplosione è stata fortissima, i veti delle finestre hanno tremato. Così Ivan ricorda quei momenti drammatici. Sul luogo dell'incidente non sono state rilevate tracce di esplosivo e l'aereo era ancora intero quando è impattato al suolo, come dimostrano le immagini di una telecamera di sorveglianza nelle vicinanze. Elementi che fanno accantonare la pista terroristica, mentre restano aperte tutte le altre ipotesi. Le avverse condizioni meteorologiche, il fattore umano o un guasto tecnico così grave da non lasciare neanche il tempo di lanciare un SOS. L'aereo, in servizio da 7 anni, è precipitato pochi minuti dopo il decollo e il modello, un Antonov 148, già in passato aveva dato problemi. Per fare luce sulla tragedia, si punta adesso sulle scatole nere, ritrovate in buono stato in mezzo alla neve.